Dopo la gara con la Ternana, Massimo Drago non vuole critiche sulla vittoria arrivata grazie a due calci da fermo. Una questione che si vince però, si pareggia perché però, si perde, ogni cosa è un però. Io dico che la mia squadra è forte, è una squadra solida, magari in alcuni momenti, forse eravamo un po' più belli l'anno scorso ma eravamo forse un po' meno cattivi nella fase non possesso. Stiamo cercando di cambiare tutti e due tipi di atteggiamento. Poi mette a confronto il gruppo dell'anno scorso con il Cesena di oggi. Questo gruppo ha qualcosa in più ma non perché gli altri non ne avevano, perché gli altri avevano delle situazioni un po' particolari. C'erano giocatori che erano a scadenza di contratto, molti giocatori in prestito. Allora questo gruppo mi sembra che abbia maggior senso di appartenenza, proprio per questo motivo, perché ci sono tanti giocatori di proprietà di questa grande società. Il 2-0 rifilato alla Ternana permette ai bianconeri di accedere al quarto turno di Coppa con l'Empoli. Abbiamo la possibilità di andare a giocare contro l'Empoli, quindi incontriamo una squadra di Serie A e sicuramente la incontreremo in modo diverso rispetto al Torino dell'anno scorso. Grazie. 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 Grazie.